Ciao a tutti, oggi vi presento questo motivo molto bello, traforato, e ovviamente adatto anche a delle principianti, perché è abbastanza semplice da realizzare. Ci sono praticamente diritti, diminuzioni semplici, gettati, però sono abbastanza facili da fare. Allora, sul davanti si presenta in questo modo. Mentre sul dietro è così. I ferri pari o ferri di ritorno, le maglie vengono lavorate sempre e solo a rovescio. Allora, il motivo è formato da 17 maglie, quindi andiamo a montare sul ferro 17 più 17 più 17 più 17, più le 4 di vivagno che vanno a formare il bordino. Allora, in altezza invece il motivo si realizza in 18 ferri. Volevo specificare una cosa. Il motivo è formato da 17 maglie e io in questo caso non ho lasciato nessuno spazio tra un motivo e l'altro. Se voi preferite potete lasciare uno spazio tra un motivo e l'altro e quindi per esempio lavorare 5 maglie in più e quindi ad esempio montare sul ferro 17 più 5 più altre 17. E in questo caso date spazio al motivo, cioè tra un motivo e l'altro. La stessa cosa avviene in altezza, nel mio caso ad esempio il motivo, il primo motivo termina qui. Per non farlo attaccare a questo motivo ho dato 4 ferri di maglia rasata in più e quindi ho dato spazio e poi ho iniziato l'altro motivo. Quindi se volete potete attaccarli e quindi non lavorare lo spazio oppure se volete potete invece dividerli direttamente anche da qui. Dipende un po' da voi. Nel mio caso io non ho diviso questi due, ho diviso solamente lo spazio tra l'uno e l'altro per farvelo vedere un po' meglio. Quindi il motivo è questo. Ok? Partiamo adesso con la lavorazione. Ho montato sul ferro un totale di 38 maglie perché vado a fare due motivi, quindi 17 più 17 più le 4 di vivagno che andranno a formare il bordino. Partiamo dal primo ferro e andiamo a fare un solo motivo. Vivagno, vi lascio qui sopra il link che vi riporta il vivagno. 5 diritti. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 maglie insieme a diritto. Una diminuzione semplice. Spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare. Lavoriamo a diritto la seconda e accavaliamo la prima sopra la seconda. 5 diritti. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a ripetere questo motivo. Secondo ferro, vivagno, tutte le maglie a rovescio, fino alla fine del ferro. Terzo ferro, vivagno. Quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. 2 maglie insieme a diritto. 1, 2, 3 e 5. Un diritto. Un diritto. Un gettato, tre diritti. 1, 2, 3. Un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Ripetiamo questo motivo. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio. Quinto ferro, vivagno. Tre diritti. Uno, due, tre. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. Un gettato. Cinque diritti. Uno, due, tre, quattro e cinque. Un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Tre diritti. Uno, due, tre. Ripetiamo questo motivo. Sesto ferro. Tutte le maglie a rovescio. Settimo ferro. Vivagno. Due diritti. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. Un gettato. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. e un gettato. Un diritto. E un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Due diritti. Quindi, uno e due. Ripetiamo questo motivo. Ottavo ferro. Tutte le maglie a rovescio. Nono ferro. Vivagno. Un diritto. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. Un gettato. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. Un gettato. Tre diritti. Uno, due, tre. Un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Un diritto. Ripetiamo questo motivo. Decimo ferro. Tutte le maglie a rovescio. Undicesimo ferro. Vivagno. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. Un diritto. Un diritto. E un gettato. Due maglie insieme a diritto. Un diritto. E un gettato. Due diritti. Uno e due. Un gettato. Una diminuzione semplice. Una diminuzione semplice. Un gettato. Un diritto. Una diminuzione semplice. Ripetiamo questo motivo. Dodicesimo ferro. Tutte le maglie a rovescio. Tredicesimo ferro. Vivagno. Cinque diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Un gettato. Una diminuzione semplice. Tre diritti. Uno. Due. Tre. Due maglie insieme a diritto. Un gettato. Cinque diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Ripetiamo il motivo. Quattordicesimo ferro. Tutte le maglie a rovescio. Quindicesimo ferro. Vivagno. Sei diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Un gettato. Una diminuzione semplice. Un diritto. Due maglie insieme a diritto. Un gettato. Sei diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Ripetiamo questo motivo. Sedicesimo ferro. Tutte le maglie a rovescio. Diciassettesimo ferro. Vivagno. Sette diritti. Sette diritti. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Quattro. Cinque. sei. E sette. E sette. Un gettato. Una diminuzione doppia. Passiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorare. Passiamo. Lavoriamo, scusate, due maglie insieme a diritto. e accavalliamo la prima sopra la seconda. Un gettato. Sette diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. E sette. Andiamo a ripetere questo motivo. Diciottesimo e ultimo ferro. Tutte le maglie a rovescio. Allora, come potete vedere, il motivo è praticamente terminato. Per ripeterlo, non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero uno al numero diciotto. Ricordatevi che, se volete dare uno stacco al motivo, potete ad esempio lavorare altri quattro ferri a maglia rasata e poi rincominciare da capo, dall'uno al diciotto. Il motivo e il video sono terminati e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!